Abbiamo organizzato per sabato pomeriggio 28 aprile la consueta festa della nostra associazione presso la tenuta Santi Giacomo e Filippo in Urbino. Come ogni volta ormai da tre anni a questa parte sarà un pomeriggio tutto dedicato ai ragazzi che inizierà alle 16.30 con la consegna delle borse di studio da parte del presidente della BCC Bruno Fiorelli. Anche quest'anno è stata dedicata a questi ragazzi un'importante somma pari a circa 25.000 euro che andranno donati a 60 meritevoli ragazzi sia laureati che diplomati. Il pomeriggio continuerà poi con l'assemblea della nostra associazione dove verranno approvati i rendiconti economici dell'anno 2017 e verranno elencati i principali punti che verranno toccati durante il 2018. Contestualmente siamo in una fase di transito in cui si va a chiudere il primo triennio di attività e quindi anche le cariche nel direttivo dell'associazione terminano e quindi contestualmente ci sarà anche la nomina di nuove funzioni e nuovi ragazzi. Il pomeriggio continuerà con una pericena che inizierà indicativamente attorno alle ore 18.30 per allietare la serata e darci saluti finali. Detto questo vi aspettiamo numerosi come ogni volta ogni anno alla tenuta di Santi Giacomo e Filippo a Urbino sabato pomeriggio.